Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga sono stati ospiti di Verissima qualche giorno dall'annuncio della loro prima dolce Siamo felicissimi, è stato difficile tenerlo per noi, ma ora siamo contenti di condividere questa gioia ha confidato la coppia, nata tre anni fa durante il grande fratello Vip Siamo felicissimi, è stato difficile tenerlo per noi, ci siamo conosciuto in un reality, ma questa cosa è arrivata al momento L'attrice è al quarto mese di gravidanza, scoperta durante le ultime vacanze di Natale Ho fatto il test con un'amica, non ci volevo credere, ma ho aspettato qualche giorno prima di dirlo L'attrice è al quale il sesso del bebè ancora non è noto, ma è già partito il totonomi Se femmina Daphne o Camilla, se maschio siamo propensi a chiamarlo Teo perché vorrei ricordare Teodosi o Losito Il sesso del bebè ancora non è noto, ma è già partito il totonomi Se femmina Daphne o Camilla, se maschio siamo propensi a chiamarlo Teo perché vorrei ricordare Teodosi Piena di gioia la reazione dei nonni alla scoperta della gravidanza La reazione di nonno Walter? È stato contento, lui è felice di Rosi Tra loro c'è sintonia, ha raccontato Andrea parlando del padre, l'allenatore di calcio, ex calcio La reazione di nonno Walter? È stato contento, lui è felice di Rosi, tra loro c'è Infine, la gioia più grande era diventare madre e di diventarlo con un padre così accanto Ha aggiunto Rosalinda che ha anche ringraziato il collega ed ex fidanzato Gabriel Garco per Infine, la gioia più grande era diventare madre e di diventarlo con un padre Di seguito un momento dell'intervista, un post condiviso da Verissimo Chiocciola Verissimo